Una vergogna senza fine, uno dei luoghi simbolo di Napoli sfregiato, degradato e devastato. Il colonnato di piazza del plebiscito da mesi è divenuto accampamento di fortuna per senza tetto invaso dall'immondizia, deiezioni umane e canine, urine, coperte e materassi lerci. Come se non bastasse, lo stesso colonnato dinanzi la basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, a piazza del plebiscito, è stato totalmente graffittato da scritte vandaliche e oscene, come si può vedere nelle immagini. Stamane migliaia di turisti, scolaresche e croceristi affollavano la piazza antistante il Palazzo Reale e la prefettura di Napoli. Tutti, giunti in prossimità dell'ingresso della basilica, storcevano il naso, non soltanto per il degrado dei luoghi, ma soprattutto per il nauseo e abbondo odore di urina. Un monumento totalmente abbandonato sia dalla precedente amministrazione che da questa vigente. Con potenzialità però infinite, visse la presenza di negozi sfitti che potrebbero dare vita a un turismo di qualità notturno e diurno. Ai nostri microfoni la rabbia di esercenti, cittadini e professori in gita con gli studenti. Noi siamo alcuni dei pochi coraggiosi che hanno deciso di aprire un'attività qui. Sì, purtroppo qui spazzatura, poca igiene, è un po' un luogo abbandonato a se stesso, ogni tanto vengono a lavare. Prima qui c'era la pizzeria, almeno faceva un po' la mattina con il sapone, con l'acqua, perché qui comunque di notte è un luogo, ripeto, abbandonato a se stesso, ci vorrebbero locali, ci vorrebbe vita che non c'è. I bambini sono deliziati da tanta bellezza, certamente stride le condizioni che non sono sempre perfette. Abbiamo scelto il posto migliore e più pulito, ma guardando in giro nella piazza effettivamente l'ambiente, l'igiene lascia un po' a desiderare. Sicuramente gustare un caffè fa sempre bene, però se il posto è quello giusto, questo è giusto, però è un po' abbandonato, diciamo, non questo lato, ma l'altro lato del porticato, con dei ragazzi che purtroppo non è neanche colpa loro che ci vivono, con cani, che anche loro io li amo i cani, e quindi stanno molto a disagio. Sicuramente di sera qua, è buio, non so se lei passa di sera, e sarebbe bellissimo, non dico ristoranti, perché qua bisognerebbe investire, non so se ci sono persone che investono qua, però se si investe comunque si guadagnerebbe, perché poi con una guida che porti turisti è caratteristica anche questa zona.